Nei momenti drammatici della nostra nazione si è sempre fatto appello all'unità delle istituzioni, all'unità nazionale. In questo momento a Napoli in Campania si ha la sensazione invece di una distanza tra le istituzioni. C'è un cortocircuito istituzionale. La leale collaborazione istituzionale è un valore. Ce lo ricorda spesso, l'ha ricordato anche poco tempo fa in un discorso pubblico il Presidente della Repubblica Mattarella. La Prefettura è il luogo di elezione, di incontro delle istituzioni. Noi siamo sempre disponibili come istituzione terza che quindi riesce spesso a risolvere problemi facendo dialogare tutti. La Campania è zona rossa con il lockdown e temi disordini? No, noi abbiamo avuto tre settimane fa una manifestazione violenta nella città di Napoli che ha fatto suonare un campanello d'allarme per le possibili sovrapposizioni di una crisi sociale con infiltrazioni di soggetti che non avevano nulla a che fare con questo. Devo dire però che da quel giorno, ogni giorno ci sono state manifestazioni a Napoli di molte categorie che hanno diritto di manifestare perché vivono in maniera drammatica gli aspetti di questa crisi ma mai più abbiamo registrato episodi di violenza o di intolleranza. Tuttavia stiamo sviluppando tutta la prevenzione possibile anche sul piano informativo per far sì che non si ripetano quegli episodi. Napoli, la Campania, tutta l'Italia è rimasta scioccata dal dramma visto al Cardarelli e anche in altri ospedali. Che cosa il prefetto di Napoli sente di dover dire ai cittadini e che cosa sente di poter fare perché questo non accada più? Devo dire la preoccupazione l'abbiamo avuta anche noi, tant'è vero che abbiamo dedicato una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche a questo tema e naturalmente il mio compito è stato ed è stato quello di informare il Governo su ciò che noi avevamo appreso.